Buongiorno e bentornati a Medicina 33. Allergie, chi ne soffre in un periodaccio questo, però chi soffre di allergie alimentari soffre tutto l'anno. Però ci sono dei metodi per uscirne, di questo parleremo con il nostro ospite in studio di oggi, il professore Andrea Di Rienzo Businco. Buongiorno professore. Buongiorno. Allergologo ospedale Pertini di Roma. Allora professore, noi parliamo di allergia alimentare. Intanto facciamo un po' di chiarezza, molti dicono di essere allergici, ma invece sono soltanto intolleranti. Qual è la differenza? Beh, c'è una grande differenza tra allergia e intolleranza. I sintomi legati a una reazione allergica dopo l'ingestione di un alimento sono sintomi drammatici, importanti, che si manifestano con lo shock anafilattico, quindi difficoltà a respirare, orticaria diffusa su tutto il corpo, gonfiore, senso di svenimento, quindi potenzialmente mortali. I sintomi di intolleranza sono sintomi molto più leggeri, meno fastidiosi, pensiamo all'intolleranza al lattosio, sono sintomi legati all'apparato gastrointestinale, difficoltà a digerire, un po' di gonfiore decisamente diversi da quelli legati alle allergie. Ecco, e allora invece parlando di allergie, è possibile superarle? Oggi ci sono tante novità in campo di allergia alimentare, alla luce di nuovi studi recenti, molto recenti direi, che hanno fatto vedere come quello che facevamo in passato non era poi così corretto, cioè evitare completamente l'alimento una volta fatta diagnosi dell'allergia. Oggi si è visto che con dei protocolli di assunzione dell'alimento responsabile dell'allergia, il latte, l'uovo, il pesce, in piccole dosi, si riesce piano piano ad ottenere una desensibilizzazione, quindi una cura anche nelle forme più gravi. Ecco, la cosa importante da sapere però è che non si può fare da soli, bisogna farlo assolutamente rivolgendosi a degli specialisti, perché sennò è pericolosissimo. Assolutamente sì, centri specialistici, centri che si devono occupare di questi protocolli, sono pochi in Italia e devono avere la capacità di saper gestire questo tipo di reintroduzione che deve essere non controllata, controllatissima, e gestire anche eventuali reazioni in corso di questa desensibilizzazione. Ritornano dopo questa desensibilizzazione le allergie? E la cosa importante una volta ottenuta la tolleranza completa o parziale dell'alimento è continuare ad assumere dosi tali da poter avere col tempo questa tolleranza e non avere i sintomi gravi che questi alimenti danno quando è assunto in quantità maggiore. Cioè significa che bisogna continuare ad assumerli regolarmente in piccole dosi? Sì, in dosi tali da essere tollerate ma non da creare la reazione allergica ovviamente. Ma perché questo? Perché il sistema immunitario continuando a vedere, per dirla in termini semplici, l'allergene che in questo caso è un alimento, lo vede progressivamente sempre più come un amico e non come un nemico. Grazie. Grazie. Grazie professore.